Ancora grazie Paolo Arduino. Allora adesso c'è Riccardo, Riccardo ha bisogno di un tavolo. Corri, 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 corri. Ha bisogno di un tavolo, mettiamo il tavolo. Signori e signori, Riccardo Masutti, no, non ha bisogno del tavolo, non ti preoccupare, ha le slide, la regia è pronta. Do and don't con bitcoin, bellissimo intervento di Paolo Arduino, ce l'ha accennato. Il futuro è già qui, nel futuro ci vorrà una forma di valuta digitale autenticamente nativa di internet, quella valuta è bitcoin. Prego. Ciao a tutti. Beh, innanzitutto mi scuso, magari ho la voce un po' strana, però come ho spiegato ieri, nello speech della privacy, purtroppo l'altro ieri ho fatto un giro nel lago di Lugano e ho perso tutti i miei bitcoin, quindi il mio seed, il mio order wallet è sotto nel lago e sfortunatamente ho perso tutto. Cosa che è molto molto importante a ripetere perché tutti voi perderete tutto prima o poi, è un inside joke di tutti quanti i bitcoiner. Allora, lo speech di oggi sarà una cosa molto molto semplice, cioè vorrei spiegarvi cosa fare e cosa non fare nel mondo di bitcoin. Purtroppo c'è tanta disinformazione, c'è tanta difficoltà nel capire concetti molto molto semplici dietro bitcoin, quindi appunto il titolo è Bitcoin Do's and Don'ts, in modo giusto e sbagliato di vedere bitcoin. Mi presento, io sono Riccardo, mi occupo di cyber security e privacy per Bitfinex e cerco anche di fare educazione in italiano e in inglese sui temi di sicurezza e privacy di bitcoin. Tre temi che comunque ritengo molto molto importanti perché, come abbiamo spiegato anche ieri, come in generale stiamo spiegando in tutti gli speech di questo evento, anzi ringrazio anche il Comune di Lugano per aver allestito questo parco che è gratuito, tutti appunto possono parteciparvi e capirne di più anche per un livello basico. Qua trovate comunque tutti i miei contatti su social media, trovate la mia chiave PGP se volete confermare la mia identità, se poi in futuro vogliate appunto contattarmi in maniera confidenziale. C'è anche un gruppo Telegram che si chiama Bitcoin Sicurezza Privacy, dove cerco appunto di aiutare le persone, c'è una community comunque abbastanza importante di persone che non vogliono truffarvi, vendervi l'ennesima rivoluzione cripto su NFT legati a metalli che fanno X, non se ne frega niente. A noi interessa spiegarvi come mettere in sicurezza bitcoin e come perderli tutti in un lago. Allora, Bitcoin, do verify, don't trust. Un concetto importantissimo, l'ha parlato anche Paolo prima, la bellezza è proprio che noi possiamo verificare tutto su Bitcoin. Quanti Bitcoin ci sono in circolazione, qual è il tasso di inflazione, chi detiene quanti Bitcoin, il valore delle transazioni, il volume delle transazioni. Qualcuno di voi per caso sa quanti franchi ci sono in circolazione, oppure quanti euro, quanti dollari ci sono in circolazione? Anche io. Perché non possiamo verificarlo. Non sappiamo nemmeno quanti soldi reali e quanti soldi contraffatti ci sono in circolazione. Perché comunque in un sistema fiat è anche possibile col denaro cartaceo contraffare i soldi. Quindi in realtà io potrei avere un patrimonio di X franchi e contemporaneamente qualcuno potrebbe creare Y franchi falsi che potrebbe poi spendere. Quindi io dico, ma cavolo, lavoro 8 ore al giorno, 160 euro al mese, un sacco di tempo della mia vita, lo passo a lavorare e poi qualcuno può stampare soldi dal nulla. Non lo so. A me piacerebbe stampare soldi dal nulla, però mi piacerebbe anche un sistema monetario dove tutti devono seguire delle regole specifiche. Quindi appunto la bellezza di Bitcoin è che noi possiamo verificare tutto. non può esserci un Bitcoin falso, contraffatto, perché siccome il tutto si basa su un sistema decentralizzato dove tutti condividono lo stato della blockchain, sincronizzata, trasparente, indelebile, non censurabile, ecco che tutti possono assicurarsi che nessuno bari. Non dobbiamo fidarci di nessuno, se non di noi stessi, della matematica e di tutte le altre persone come noi che fanno parte del network di Bitcoin. E fiducia è un concetto, una parola molto molto importante, perché comunque in tutto, diciamo, il nostro viaggio come esseri umani dobbiamo comunque riporre fiducia in qualcosa. In software, in amicizie, in relazioni, in lavoro, in soldi. E appunto io partirei con il discorso della fiducia legata ai software di Bitcoin e alla sicurezza che dobbiamo cercare di raggiungere quando scarichiamo un software di Bitcoin. Siccome non c'è nessun intermediario, non c'è nessun garante, non c'è nessun team di supporto che possiamo chiamare se scordiamo la password di Bitcoin, non c'è nessun organo di polizia che potenzialmente può aiutarci o annullare una transazione se esce dal nostro portafoglio, ecco che è molto molto importante sin da subito, sin da quando scarichiamo il primo nostro software per gestire dei Bitcoin, di verificare le firme digitali. Quindi do, verifica le firme digitali, don't scarica software fidandoti. Ovviamente tutti noi tendiamo a scaricare di tutto sul nostro computer, giusto? Ci fidiamo, non sappiamo che c'è dall'altra parte. In realtà finché si tratta magari di un software per modificare dei documenti potremmo anche fidarci. Se si tratta di un software per modificare delle foto perché magari vogliamo metterci il naso un po' più stretto, toglierci qualche chilo e poi pubblicare le social media può andare anche bene. Ma nel caso di gestire il nostro denaro in un sistema decentralizzato senza garanzie perché noi siamo gli unici garanti della nostra sicurezza, privacy e anche patrimonio ecco che è molto molto importante firmare e verificare le firme digitali. È un concetto che potrebbe sembrare strano da nerd. Io sono un nerd, qua è pieno di nerd, però vorrei che arrivasse anche a voi questo concetto qua della verifica delle firme digitali perché nel mondo di bitcoin tutti gli sviluppatori appunto non vogliono che voi vi fidiate di quello che state scaricando perché potrebbe esserci un attaccante tra voi e il software che volete scaricare che magari vi consegna una forma contraffata di quel software e magari in un click, in un secondo voi perdete tutto il vostro patrimonio in bitcoin. Non vorrei che accadesse, preferrei perdere in un lago appunto. Comunque a prescindere da ciò questo è un inside joke guardatevi anche lo speech che ho fatto ieri perché poi capirete il concetto di perdere tutto in un lago. Quindi la verifica delle firme digitali contrafatelo cercatelo online come verificare un software di bitcoin ci sono un sacco di guide in italiano e in inglese anche dei video che vi fanno vedere passo passo come assicurarvi che il software in generale il wallet il portafoglio che vi permetterà di gestire i vostri primi bitcoin sia effettivamente originale non contraffatto quindi potete stare tranquilli che nessuno vi può spostare bitcoin dal vostro portafoglio. Do, utilizza il tuo nodo don't, fidarti di nodi casuali. sempre in relazione alla fiducia che noi poniamo nel sistema di bitcoin dovete capire che non è che noi andiamo manualmente a verificare cosa succede nella blockchain quanti bitcoin ci sono in circolazione eccetera un software lo fa un nodo un full node cos'è un full node? è essenzialmente una sorta di scatola che contiene tutta la storia di bitcoin immaginiamo quindi per esempio che poniamo ad esempio le banche come funzionano tra di loro condividono lo stato dei saldi di tutti i clienti che hanno quindi io voglio spostare magari 10 franchi in un altro istituto bancario voglio fare un bonifico con un'altra persona ecco che le banche aggiornano si scambiano informazione sul saldo che si sposta e quindi vanno a aggiornare il saldo dei propri clienti su bitcoin siccome il tutto è diciamo decentralizzato tutti condividono questo saldo questa blockchain questo libro mastro che contiene tutte le informazioni di tutti qual è il problema che se noi andiamo a fidarci di nodi casuali in realtà non abbiamo il vero e proprio controllo dei nostri bitcoin perché comunque dobbiamo comunque porre fiducia in qualcuno e quel qualcuno potrebbe in realtà poi anche tracciarci scusate che fa un po' caso sembra una serra qua dentro qualcuno potrebbe tracciarci perché se no non abbiamo un'informazione a casa nostra ovviamente dobbiamo richiedere da qualcun altro quando andiamo a condividere informazioni sui nostri indirizzi sul nostro patrimonio in bitcoin ecco che andiamo a perdere un po' di proprietà di privacy di bitcoin fortuna vuole appunto che possiamo scaricare utilizzare il nostro nodo e quindi avere tutte queste informazioni in casa non dobbiamo richiederla a nessuno non c'è nessuna connessione che dobbiamo fare all'esterno nessuna condivisione di dati su chi siamo e su quali indirizzi possediamo e passerei qui nel discorso di sicurezza un tema importantissimo è la differenza tra wallet custodial e non custodial cosa significa custodial e non custodial quando per esempio io utilizzo un wallet di bitcoin solitamente posso decidere di scaricare il wallet stesso sul mio computer ho la totale libertà di decidere come spendere i miei bitcoin a chi inviare i miei bitcoin da chi ricevere i miei bitcoin oppure posso anche decidere non di scaricare un software ma di scrivermi a un sito web che mi semplifica la vita cosa significa magari mi iscrivo a un wallet online molto più semplice da utilizzare rispetto a un wallet offline per bitcoin però non ho il vero e proprio possesso dei miei bitcoin in realtà faccio ancora affidamento una terza parte è un'attualità centrale che potrebbe pignorarmi bitcoin censurarmi le transazioni tracciare le mie spese finanziarie e in generale avere un quadro totale della mia vita nel mondo digital di bitcoin ripeto la privacy è un tema molto molto importante però il concetto di wallet custodial non custodial va a toccare sia il tema della privacy che della sicurezza perché se voi ponete la fiducia in una terza parte in realtà gli state dando anche la possibilità di gestire la vostra sicurezza nel caso dei circuiti bancari convenzionali se una società finanziaria una banca o in generale chi vi vende un prodotto finanziario vi gestisce i vostri soldi in realtà se è vittima di hacking o se perde qualcosa in qualche modo riesce a tornare indietro e a restituirvi il denaro nella maggior parte delle volte nel caso di bitcoin non c'è nessuno che può far ciò se un wallet online viene hackerato voi avete perso tutto perché? perché le vostre che vi private i vostri bitcoin non li gestite voi li gestisce qualcun altro per voi ovvio vi semplifica la vita è il modo con cui abbiamo praticamente utilizzato il denaro negli ultimi duecent'anni cent'anni non lo so in realtà possiamo cambiare la situazione dovremmo cambiare la situazione bitcoin è fantastico ci permette di essere liberi ma ciò presuppone che noi dobbiamo considerare seriamente l'idea di essere gli unici garanti del nostro valore non è una cosa da tutti è un cambio di paradigma molto molto importante ci vuol tempo ci vuol tempo ci vuol tempo ci vuol tempo do genera il tuo seed don't lascialo generare al tuo hardware cos'è il seed? il seed è essenzialmente una serie di parole che permette a tutti noi nel caso ci si rompa il computer ci cada il telefono nel gabinetto il nostro figlio vuole giocare e mette il nostro telefono in un microonde e vi assicuro che l'ho fatto io con mia nonna tantissimi anni fa perché volevo provare capite bene che se voi fate una cosa cioè se perdete il vostro telefono non è che perdete tutti i vostri bitcoin avete comunque la possibilità di recuperarli in qualche modo grazie appunto al seed quindi una serie di parole solitamente 12-24 parole una combinazione casuale di parole solitamente appunto generata da un computer che vi permette di essere al sicuro di avere insomma una bova di salvataggio una sorta di backup di tutto il vostro patrimonio di tutto il vostro wallet di tutti i bitcoin le transazioni gli indirizzi che compongono diciamo il vostro wallet stesso di bitcoin e qual è la differenza? qual è cosa significa genera il tuo seed e lascialo generare il tuo hardware? siccome per generare questo seed solitamente noi utilizziamo dell'hardware dei computer dei telefoni in realtà vedete torniamo al concetto di fiducia per cui dobbiamo fidarci dell'hardware stesso io personalmente non mi fido di alcun hardware sono abbastanza paranoico mi occupo di cyber security e ne ho visti di tutti i colori c'è un po' di gente qua dentro che ne sa qualcosa anche e che mi sta guardando in questo momento in realtà ci sono anche dei modi per generare il seed quindi questa serie di parole in modo totalmente entropico casuale sicuro e senza utilizzare alcun hardware alcun telefono alcun computer semplicemente lanciando dei dadi ok perché perché la sicurezza dietro un seed la sicurezza dietro delle chiavi private la generazione di chiavi private e quindi la possibilità di gestire bitcoin in maniera corretta e sicura in realtà viene data dalla casualità l'entropia ciò che mette in sicurezza bitcoin anzi bitcoin è già sicuro per assurdo perché la matematica che c'è dentro bitcoin ci permette di essere sicuri che nessuno possa casualmente ricostruire il nostro wallet per farvi capire il numero di combinazioni cercherò di semplificarlo il numero di combinazioni che ci sono di chiavi private di seed anche in generale il numero di possibilità che c'è di craccare o di diciamo hackerare il vostro wallet di bitcoin semplicemente mettendo delle parole a caso è enorme ci sono più possibilità e più combinazioni che atomi nell'universo è un numero così grande che nessuno di noi io compreso riesce lontanamente a immaginare qual è il problema che se questo seed questa combinazione in realtà non è veramente entropica non è veramente casuale ecco che questo numero di combinazioni potrebbe diminuire quindi la vostra sicurezza è a repentaglio possiamo creare casualità possiamo generare un seed semplicemente lanciando dei dadi sfruttando leggi fisiche sfruttando le variabili della vita per avere veramente casualità il famoso effetto farfalla una farfalla che dall'altra parte del mondo sbatte le ali crea un uragano un tornado qui l'aria la pressione dentro questa stanza ci sono troppe variabili della vita che un computer non può veramente replicare quindi do genera il tuo seed don't lascia lo generare dal tuo hardware anche qua io ve lo sto spiegando abbastanza facilmente poi spero appunto di accendervi una lampadina che andate a cercare magari queste informazioni online comunque ripeto alla fine del dello speech vi farò una piccola sorpresa e vi consiglierò anche qualche comunque risorsa do tieni le tue chiavi private offline ovvero cold wallet don't tieni le tue chiavi private online hot wallet cos'è un cold wallet o uno hot wallet? essenzialmente la maggior parte di noi utilizza il computer per giocare navigare su internet scaricare film scrivere delle mail insomma lo utilizziamo per tante cose è un hardware generico che ci semplifica la vita e ci permette di fare tante cose assieme stessa cosa per il nostro smartphone qual è il problema? che sempre per lo stesso motivo per cui non c'è nessun garante e quindi noi siamo gli unici diciamo garanti dei nostri bitcoin della nostra sicurezza io personalmente preferirei e consiglierei a tutti voi di avere un diciamo hardware o in generale un dispositivo ad hoc per gestire i vostri bitcoin immaginate che quando andate in banca anziché andare in banca e semplicemente ritirare dei soldi o firmare delle carte possiate anche comprare delle banane fare un tiro pallacanestro o che ne so guardare un film non è così perché la banca ha un ruolo specifico deve essere costruita in un certo modo deve avere delle licenze particolari deve operare in un certo modo voi su bitcoin siete la banca di voi stessi quindi dovete considerare questa cosa questo gestire il vostro patrimonio in una maniera molto importante e per essere la banca di voi stessi dovreste costruire una sorta di cavo ogni qualvolta che una nuova banca viene costruita il design principale si basa sul cavo stesso ovvero dove ci sono i soldi gli ingotti ok poi viene costruita la banca intorno la stessa cosa dovete far voi dovete assicurarvi che il vostro cavo sia abbastanza sicuro sia resiliente ad attacchi fisici e remoti su internet l'attacco remoto quindi possiamo eliminarlo semplicemente tenendo appunto le nostre chiavi private offline quindi avendo un cold wallet perché se noi lasciamo il nostro wallet le nostre chiavi private su un dispositivo che è online e che magari utilizziamo anche per guardare dai film ecco che la superficie d'attacco aumenta e non solo un attaccante potrebbe attaccarci fisicamente ma anche da remoto ed è molto più facile attaccarvi da remoto perché posso farlo dall'altra parte del mondo in maniera pressoché infinita e senza mostrarmi in faccia e questa è una cosa interessante che è legata alla sicurezza do pensa che il mining permetta a bitcoin di essere sicuro don't pensa che pensa che bitcoin sia la casa del surriscaldamento globale si sente tantissimo ultimamente anche con i criteri SG queste cose qua si sente che bitcoin è esattamente il motivo per cui sto cuocendo qua sotto parlando davanti a voi è colpa di bitcoin no allora tra poco ci sarà anche Natale tra quanti mesi un paio di mesi pensate che il numero di addobbi natalizi di luci natalizie in America nel periodo natalizio consuma quanto bitcoin quindi andiamo a chiudere totalmente cioè tutti quest'anno quest'anno questo Natale dovremmo spegnere tutti gli alberi natalizi perché consumano anche bitcoin consuma non lo metto in dubbio ma il consumo di elettricità di bitcoin è esattamente il motivo per cui è sicuro la sicurezza del mining di bitcoin è importantissima quindi noi non dovremmo nemmeno dire che bitcoin che il consumo di energia di bitcoin sia una cosa errata perché ci serve il mining ne abbiamo sempre più bisogno abbiamo sempre più bisogno di sempre più miner perché più miner ci sono più potenza computazionale c'è e più la rete è sicura resiliente e inattaccabile da agenti e fattori esterni anche molto molto importanti quindi ricordatevi che il mining è importantissimo anche il tema del surriscaldamento globale è importantissimo però tutti noi vogliamo le luci di natale giusto? e una parte di noi vuole bitcoin quindi abbiamo gli stessi diritti qualcuno ha visto la puntata di RSI un paio di settimane fa poi hanno parlato di di bitcoin beh do ti elenzi private nascoste don't mostra le tue chiavi private in prima serata su RSI io ho visto la puntata online e ho detto ma cos'è? allora qua ci sono due codici QR uno che mostra l'indirizzo pubblico e uno che mostra l'indirizzo privato la chiave privata quel è il problema qua ci sono due problemi che io potenzialmente potrei tracciare l'indirizzo pubblico e tracciare tutte le spese successive di chi ha comprato bitcoin poi con la chiave privata in realtà potrei appropriarmi di quell'indirizzo e spendere il contenuto dentro quindi sempre in relazione al cold wallet a tenere le vostre chiavi private al sicuro in un ambiente offline dovreste anche evitare di mostrarle in tv o sui social media quindi mi raccomando non mostrate mai le vostre chiavi private in televisione privacy pensa che bitcoin sia do pensa che bitcoin sia pseudonimo don't pensa che bitcoin sia anonimo bitcoin non è assolutamente anonimo so che su youtube è pieno di fuffa guru che parlano e si definiscono esperti che vi dicono che bitcoin è anonimo bitcoin è la cosa più trasparente che ci sia in questa società digitale come vi ho detto prima noi abbiamo la totale visione di ciò che accade vediamo in tempo reale tutti gli indirizzi di bitcoin che fanno transazioni il valore di queste transazioni il volume di queste transazioni e la privacy è data dal fatto che diciamo non c'è un nome e cognome per tutte le persone che compongono il netto di bitcoin e effettuano indirizzi e effettuano transazioni noi vediamo semplicemente degli indirizzi delle stringhe alfanumeriche casuali che identificano tutti i partecipanti nella blockchain di bitcoin quindi è pseudonimo la nostra privacy è data dallo pseudonimato non dall'anonimato ci sono una serie di informazioni ci sono tantissime transazioni che noi andiamo a condividere al network alla blockchain di bitcoin quando la utilizziamo la bellezza è che ripeto non c'è il nostro nome e cognome quindi fin tanto che noi non colleghiamo la nostra identità il nostro nome e cognome l'indirizzo ecco che lo pseudonimato di bitcoin ci permette di essere abbastanza privati do don't censurare facce dati pixelando sfocando sembra in quella famosa puntata qualcuno pensato adesso non si vede ha pensato bene di censurare una faccia mettendo dei pixel e vi assicuro che pixelare sfocare in generale un volto non aiuta quindi in realtà io o qualcuno di voi che ha le competenze tecniche per farlo potrebbe sfruttare dei software e rivelare la faccia di questa persona che sembra in quella famosa puntata di RSI l'altra sera ha parlato insomma di una truffa avvenuta tra Lugano e Dubai e quindi do don't censurare facce dati pixelando sfocando un piccolo esempio una faccia pixelata che poi può essere vista ok sfruttando degli algoritmi stessa cosa questo è Roger Weir un bitcoiner convinto convinto che bitcoin non sia bitcoin in realtà perché propone una versione differente da bitcoin che la maggior parte della gente non vede come corretta comunque tema di consenso tema di scelte spero insomma di potervi spiegare questi temi magari nelle prossime settimane o mesi comunque lui ha pensato bene di mostrare e fare una sorta di video tutorial su come utilizzare in questo caso Bcash che è una versione diciamo differente da bitcoin sotto alcuni aspetti ricordate Paolo che prima vi ha parlato del concetto di blocchi che tutti devono potersi sincronizzare quindi bitcoin deve essere leggero ecco Bcash è una cosa un po' più pesantina che io personalmente non utilizzerai mai figuriamoci qualcuno che vive in Amazzonia e lui ha pensato bene di sfocare in questo caso una chiave privata quindi a sinistra abbiamo l'indirizzo pubblico a destra abbiamo la chiave privata per spendere da quell'indirizzo pubblico quindi da questa immagine che a prima vista potrebbe sembrare veramente niente in realtà riusciamo a tirar fuori questo quindi il codice QR che permette a chiunque di spendere da un indirizzo di bitcoin ricordo ripeto non sfocate mai le immagini se volete stare a guardare e mettere in confidenzialità un'informazione perché c'è gente come me o come qualcun altro che è interessato a questi temi di sicurezza e privacy che potrebbe diventare veramente curioso blockchain blockchain è una buzzword come cloud come intelligenza artificiale e come tante altre cavolate che vi venderanno questi famosi fuffaguru come NFT sono buzzword magari un fondo di verità un fondo di cose interessanti ci sono dietro però la gente si riempie di queste parole perché diciamo sono estremamente riconosciute cioè la gente ormai sa sente blockchain 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 ma qualcuno di voi sa spiegarmi in un minuto anzi in dieci secondi in parere semplici cos'è una blockchain ve lo spiego io blockchain per me è bitcoin fine il resto è fuffa quindi quindi blockchain riguarda cioè a rispetto alla blockchain di bitcoin in questo caso perché io parlo di bitcoin e non di altro do genera sempre nuovi indirizzi don't riutilizza indirizzi perché perché noi siamo abituati con i nostri conti bancari ad avere un IBAN per conto vogliamo avere due IBAN dobbiamo avere due conti vogliamo avere tre IBAN cinque IBAN dobbiamo avere tre cinque conti su bitcoin noi possiamo avere conti infiniti immaginate di utilizzare un IBAN sempre diverso per ogni transazione che effettuate o anzi un IBAN sempre diverso per ricevere del valore del denaro e poi riutilizzare quell'IBAN solo una volta per spenderlo noi su bitcoin possiamo fare questa cosa qua cioè possiamo generare sempre dei nuovi IBAN sempre nuovi indirizzi diversi per ogni transazione in cui siamo coinvolti ovviamente possiamo anche riutilizzare gli indirizzi è una cosa sbagliata dal punto di vista della privacy è una cosa sbagliata dal concetto per cui cioè dallo stesso concetto di bitcoin perché appunto noi non vogliamo essere legati a una sola identità ad una sola stringa alfanumerica vogliamo avere identità infinita ecco che possiamo farlo perché però qualcuno vorrebbe e potrebbe quindi è giusto che potrebbe farlo riutilizzare gli indirizzi perché magari bitcoin per lo stesso motivo che è estremamente trasparente potrebbe essere utilizzato in modo tale per esempio da un NGO o da un non profit NPO un'organizzazione non profit o NG non mi ricordo più ecco per essere trasparente e mostrare quante donazioni ha ricevuto ok e tutti noi possiamo verificarlo quindi noi possiamo riutilizzare gli indirizzi ma non dovremmo farlo se vogliamo mantenere la nostra privacy do attendi almeno una conferma sulla blockchain don't accetta o accettare come valida una transazione o un chain senza conferme perché il mining i blocchi di bitcoin avvengono ogni 10 minuti ok quindi noi abbiamo bisogno di una conferma per essere sicuri che nessuno possa diciamo effettuare una doppia spesa di alcuni bitcoin di una frazione di bitcoin quindi quando fate una transazione o anzi quando ricevete una transazione aspettate almeno una conferma sulla blockchain abbastanza semplice non date come valide transazioni senza conferme scalabilità do usa lightning network per micropagamenti don't credi o credere che una blockchain possa scalare senza secondi livelli l'hackery network è un secondo livello di bitcoin che ci permette di utilizzarlo in maniera più confidenziale più veloce più economica basandoci comunque sulla sicurezza di bitcoin stesso sul mining che c'è dietro bitcoin ovviamente non è assolutamente decentralizzato come la blockchain principale di bitcoin l'hackery network tende un po' alla centralizzazione però insomma è una tecnologia molto molto importante qualcuno di voi so che l'ha utilizzata per comprare una pizza ieri fortuna avete molta fortuna voi che avete bitcoin do pensa che bitcoin sia veloce don't pensa che bitcoin sia lento bitcoin è estremamente veloce voi inviate un pagamento dopo un paio di secondi la vostra controparte riceve una notifica di ricezione di pagamento quindi la comunicazione con pagamento avvenuto è istantanea on chain è la conferma che richiede nel tempo quindi noi possiamo già vedere una transazione dopo 5 secondi che arriva verso il nostro wallet il nostro indirizzo se vogliamo poi essere sicuri che sia effettivamente nostro quel bitcoin o quella frazione di bitcoin dobbiamo aspettare 10 minuti circa ma dipende potremmo anche aspettare un'ora dipende da quante commissioni ha pagato il mittente perché in realtà è il mittente che paga la commissione per scrivere una transazione non il ricevitore come nel caso di pagamenti con carte di credito quindi non pensate che bitcoin sia lento è estremamente veloce e sul lightning network è ancora più veloce generale pensa che bitcoin sia denaro per tutti pensa che bitcoin sia denaro per solo i criminali anche qua esattamente come il fatto che il mining bruci gli oceani li renda diciamo estremamente bollenti purtroppo i media non so per quale motivo continuano a dire che bitcoin è denaro per criminali l'ha detto Paolo prima bitcoin ha una piccolissima percentuale di utilizzo per azioni criminose bitcoin è denaro per tutti non fa distinzioni razziali d'età di sesso di orientamento sessuale di patrimonio di idee politiche insomma bitcoin è denaro per tutti anche per criminali purtroppo non possiamo fermare l'utilizzo illecito di bitcoin però non è che se qualcuno utilizza qualcosa in modo illegale noi non dovremo avere la possibilità di utilizzarlo per un modo lecito bitcoin è denaro per tutti do huddle don't lose everything cercate di non perdere tutto cioè perdete tutto nel lago ma non perdete tutto facendo trading nel senso che dovreste secondo me incominciare a pensare all'idea di accumulare bitcoin e di tenerli perché se avete capito cos'è bitcoin cioè andrà a toccare tutte le nostre vite ci vorrà tempo quindi se studiate se holdate e se non perdete tutto nel mentre cercando di inseguire la nuova shitcoin e diventare milionari in una settimana forse dico forse perché non ci sono certezze ma potrebbe diciamo migliorarvi la vita nel tempo o perlomeno ci siamo fatti qualche risata assieme abbiamo conosciuto amicizie nuove persone nel mentre do pensa in btc don't guarda il controvalore in fiat money allora tutti noi siamo bombardati da telegiornali social media nonne parenti amici che ci dico eh bitcoin 100 cap è bitcoin è 1000 eh se dico eh sei povere perso tutto eh bitcoin vale 20.000 23 oh cavolo to the moon a me non me ne frega niente un bitcoin è uguale a un bitcoin una cosa è che diciamo spesso le bitcoiner quindi in realtà dovreste incominciare a pensare in btc e non dar troppo spazio al controvalore in fiat money anche perché se incominciate a guardare il prezzo andate fuori di testa andate fuori di testa c'è gente che veramente è impazzita do focus su bitcoin don't focus su altcoin anzi shitcoin cercate di dare focus su bitcoin perché purtroppo non dico tutte anzi tutte le altcoin sono truffe per me poi ripeto non sono nessuno io sono semplicemente una persona che si sta incominciando a informare su bitcoin però scherzi a parte ci sono assolutamente i progetti interessanti che non interessano a me magari potrebbe interessare qualcuno di voi quindi il consiglio mio che vi do è focus su bitcoin sì tipo il token del podcast bitcoin italia podcast quella shitcoineria incredibile do do your own research don't dare ascolto a persone youtuber fuffa guru aziende che hanno bias di conflitto di interessi che screditano bitcoin sotto molti aspetti vendendoti contemporaneamente la loro nuova cripto rivoluzionaria futuristica sono riuscito a dirlo solamente con un respiro quindi cercate di non fidarvi delle persone che vi vendono qualcosa perché hanno dei bias hanno un conflitto di interessi verranno a dirvi che il loro nuovo NFT legato ai metalli metaversi e tutte queste belle buzzword AI intelligenza artificiali cloud eccetera andrà a sconvolgere il mondo poi dopo sei mesi voi siete i polli che vi sono fatti spennare da questi personaggi perché hanno sfruttato la vostra ignoranza e ignoranza non è una parola negativa non ha un connotato negativo io sono ignorante su moltissimi aspetti però so distinguere qualcuno che mi parla e vuole aiutarmi a comprendere qualcosa qualcuno che mi parla e vuole volevo dire un'altra parola però dirò vuole fregarmi quindi non fatevi fregare fatevi delle ricerche cercate di capire che avete davanti ai vostri occhi non prendete influencer criptoguru fuffaguru e tutti questi personaggi del fantastico mondo di youtube e di social media come persone che vogliono aiutarvi sempre purtroppo hanno un conflitto di interesse enormi la cosa divertente è che molti di loro non hanno mai lavorato un giorno della loro vita in questo settore giocano sull'ignoranza che le persone hanno su questi nuovi temi quindi cercate di studiare cercate di educarvi e cercate di capire chi avete davanti perché è veramente un mondo di squali sguazzano sull'ignoranza generale che le persone hanno di questi temi io voglio aiutarvi a comprenderli al meglio non voglio vendervi nulla voglio semplicemente aiutare le persone e cercare di migliore questa situazione perché in realtà se voi andate utilizzare bitcoin nel modo corretto in sicurezza in privacy educando anche altre persone nel vostro poi percorso bitcoin in realtà andate ad aiutare anche me perché per me è una sorta di ragione di vita io ci metto la faccia parlo di sicurezza e privacy ci metto la faccia nonostante mi sta bruciando la privacy perché per me è una ragione di vita ad educare le persone e cercare di fare il mio meglio e evitare che voi possiate fare gli stessi errori che ho fatto io e che fanno la maggior parte delle persone in questo mondo qua per questo lo speech di oggi si è chiamato bitcoin do's and don'ts non fate come il 99% grazie a bitcoin.org e grazie a RSI appunto se volete io cerco comunque di aiutare le persone su una community di bitcoiner non di shitcoiner non di shitcoin ma di bitcoiner che vuole semplicemente aiutare grazie Ricky che vuole semplicemente aiutare quindi su telegram sapete che c'è questo gruppo bitcoin sicurezza e privacy parliamo di bitcoin parliamo di sicurezza parliamo di privacy cioè roba che non interessa a nessuno spero che a voi vi interessi da oggi in poi se volete shitcoineria e come diventare milonare andate da Ricky che lo shitcoiner sono un noto shitcoiner e volevo ringraziare anche Coldcard per chi mi ha dato la possibilità di fare un regalino oggi e volevo chiedere qualcuno di voi ha un hardware wallet alzate la mano qualcuno di voi non ce l'ha tu è stato il primo ad averla alzata non barate non barate quindi vorrei regalarti un hardware wallet da parte di da parte di c'è da parte di coin kite e questo è un hardware wallet che permetterà comunque di gestire bitcoin in sicurezza nel tuo percorso addirittura ringraziamo Coldcard che ha pagato il biglietto a Riccardo Masutti no anzi io gli ho chiesto scamone malefico per favore inviammi un hardware wallet perché ripeto mi piacerebbe insomma aiutare le persone io cerco di consigliare ciò che utilizzo bravo bravo allora abbiamo tempo circa dieci minuti per un giro di domande e risposte tante mani alzate partiamo da qui Ricc sei pronto? la mia ciao a tutti innanzitutto la mia è una veloce informazione di servizio l'indirizzo pubblicato sulla sulla trasmissione di RSI è già vuoto vero? ce lo siamo chiesti tutti ma diamo per scontato che qualcuno sia stato molto più veloce di noi ma se tutti pensano questo andrei a verificare a questo punto adesso Rick non si sa mai io non ho fatto niente c'era un'altra domanda qui ciao Riccardo ciao una domanda in questo gap tra complessità e necessità insomma di accedere di accedere a questa tecnologia secondo te vedi ancora un ruolo almeno parziale iniziale se vuoi nell'autorità cioè in qualcuno che si prenda carico che sia l'accademia che sia la pubblica amministrazione che sia non so chi di fare un po' da cuscinetto tra tutta questa complessità qualcuno in cui puoi credere per delegargli un po' di complessità ma sì nel senso che non ripeto non tutti sono fatti per bitcoin e in realtà sotto alcuni aspetti le persone hanno bisogno di un minimo d'autorità di un minimo d'aiuto da parte di una entità centrale di qualcuno che possa accompagnare in maniera corretta se parliamo comunque anche di percorsi accademici di educatori queste comunque sono entità centrali che potrebbero insegnarti in modo giusto o sbagliato giusto in realtà sarebbe molto meglio che tu possa fare le tue ricerche possa effettivamente cercare di capire qual è la cosa giusta e sbagliata secondo il tuo punto di vista cosa che puoi fare su internet sotto discorso anche di gestione di bitcoin ripeto non tutti vogliono e si sentono proprio agio nell'avere il totale controllo delle proprie finanze non è una cosa per tutti però in realtà è una cosa che facevamo in passato abbiamo deciso di di semplificare come noi gestivamo il denaro parliamo di millenni fa cioè millenni no Monte dei Paschi di Siena è stata la prima banca del 1400 qualcosa non mi ricordo più e quindi abbiamo dato la gestione del nostro valore capitale a qualcun altro a discapito della nostra libertà e della nostra privacy però ripeto non è una cosa per tutti bitcoin non è per tutti bitcoin è per chi ha bisogno di bitcoin qualcuno sicuramente ha bisogno di una autorità credo però che nel percorso più si va più si va down a fondo della terra del bianconiglio di bitcoin e più si riesce a essere liberi è un percorso molto lungo tutti sono partiti da wallet custodial tutti hanno generato seed con un hardware tutti hanno perso tutto facendo trading tutti si sono mutati sulle shitcoin perché è una cosa nuova tutto interessante no? però è tutto difficile da capire poi col tempo vi migliorerete studierete e soprattutto anche educherete chi sta per arrivare bravo Rick bitcoin non è per tutti ma è per tutti nel senso che è per tutti coloro che vogliono nessuno vi obbliga bitcoin non è qua a volte a volte sento dire bitcoin è distruttivo bitcoin è qui per distruggere il sistema bitcoin è un'alternativa ognuno di noi è libero di usarlo o di non usarlo non c'è una sola parola Satoshi Nakamoto non usa mai la parola distruggere è un neopacifista in un certo senso abbiamo ancora spazio per qualche domanda eccolo ciao Riccardo volevo chiederti per quanto riguarda se mi spiegai un po' meglio il seed cioè uno se memorizza in qualche modo le 24 parole del seed recupera i suoi bitcoin cioè è la password che gli dà accesso ai suoi fondi e basta solo quella sì in realtà il seed permette a te o a qualsiasi persona che riesce ad accedere a tale serie di parole di ricostruire l'intero tuo wallet che comprende quindi tutti gli indirizzi che hai tutte le chiavi private che permettono di spendere questi indirizzi e ricostruiscono tutto lo storico del tuo patrimonio in bitcoin per quello specifico wallet quindi è molto importante metterla sicuro tu hai detto memorizzarla io eviterai di memorizzarla perché la mente gioca brutti scherzi quindi in realtà dovremo trovare il modo corretto di salvare questa serie di parole metterla al sicuro da attacchi fisici principalmente da attacchi fisici che possono essere di persone di radri o di in generale qualcuno che vuole prendere i nostri bitcoin ma anche da attacchi naturali ad esempio dentro l'hardware wallet che ho regalato a quella persona prima c'è un foglietto di carta dove tu puoi segnare il tuo seed ma quel foglietto di carta non resiste a fuoco acqua e al cane che ti mangia il foglio capito quindi anche in realtà quello è il primo passo per salvare un seed di bitcoin poi il passo successivo sarà quello per esempio di salvarlo su un supporto fisico in acciaio inox che ti difende da acqua fuoco e tanti altri eventi catastrofici però ripeto un percorso ci vuole del tempo io ho avuto un'oretta per parlarne ho cercato insomma di lanciare la moneta e adesso tocca a voi continuare a informarvi ed educarvi ti faccio una domanda io che come sai sono nuovo e ho appena cominciato a proposito di quello che diceva lui e di memorizzare però che in circostanze specifiche può essere molto utile noi ieri parlavamo di lasciare uno stato dittatoriale memorizzando le parole 24 parole ma possono anche essere 12 in alcuni wallet che differenza c'è fra le due cose? ma in realtà non c'è nessuna differenza perché la sicurezza data da 12 parole è esattamente quella di 24 parole se parliamo proprio di entropia e casualità il fatto è che 24 parole sono potenzialmente più difficili da attaccare ma anche più difficili da salvare quindi in realtà un compromesso tra usabilità e anche resistenza ad attacchi particolari di brute forcing o qualcosa di questo tipo e questa è una cosa importante che hai detto però perché purtroppo ad oggi non c'è uno standard fisso ok non c'è neanche uno standard nel seed stesso ci sono diversi tipi di seed più o meno lunghi in lingua italiana inglese spagnolo quant'altro che seguono liste di parole differenti per quello importante che studiate non date per scontato quello che vi viene detto perché purtroppo molte persone che ritenete esperte di questo tema non hanno la minima idea di ciò di cui stanno parlando quindi studiate 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 cercate aiuto perché c'è un sacco di gente disposta ad aiutarvi e seguite anche il podcast dello shitcoiner qua perché fa veramente un grandissimo lavoro educativo su bitcoin quindi non parla di altre cose riccardo masutti grazie mille oh ma che bel clima che c'è qua sotto sono molto contento di dover parlare adesso con te Guybrush abbassate il riscaldamento un attimo tolgo le sedie ma no lasciale a saperlo avremmo organizzato questo speech in costume da bagno questa bella temperatura estiva